Sono andato a manifestare alla mia solidarietà e a prendere contezza della questione che riguarda i lavoratori del Consorso di Bonifica di Ragusa che si sono costituiti in assemblea permanente a causa dei ritardi nel pagamento e delle spettanze, quanto afferma la deputata regionale Movimento 5 Stelle Stefania Campo, che stamani ha avuto un lungo incontro con i lavoratori che si trovano in stato di agitazione, una situazione complessa e delicata, detto la Campo, con i lavoratori che hanno raccontato dettagliatamente la cronistoria che ha portato al presente e si è parlato dei possibili interventi da poter attuare per sanare i debiti pregressi anche attraverso emendamenti. Si sarebbero dovuto sbloccare 266 mila euro, ma queste somme sono bloccate alla ragioneria generale per questioni puramente tecniche. E poi ci siamo anche sentiti con l'assessore all'agricoltura di Bandiera, a cui ho chiesto con fermezza di attivarsi in tutti i modi in questo senso. Alcuni lavoratori continuano ancora la Campo, non percepiscono lo stimento da 14 mesi, con tutte le gravi ripercussioni che si possono immaginare dal punto di vista familiare. L'auspicio, conclude la parlamentare grillina, è quello che l'intera deputazione regionale agisca compatte e senza differenza di colori politici per risolvere una volta per tutte la nostra questione.